Ciao per sentiremi wonderful, il tutorial di oggi è ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, ho sempre amato il suo mondo. Oggi vi mostro come creare la serratura parlante, buona visione. I started with a gold polymer clay base and I started to shade black. Sono partita utilizzando una base di pasta polimerica color oro e ho cominciato a modellare la serratura. Ho aggiunto un po' di pasta e l'ho modellata. E' un po' di pasta e l'ho modellata. Ora comincia la parte più divertente, la bocca della serratura. Ho disegnato un po' di serratura nel centro della bocca. E poi ho tagliato. I'm you. I'm you. I'm you. I'm you. di Ais e Occhietti Grazie a tutti e infine il naso Prima di cuocere ho usato della polvere oro per colorare il tutto Prima di cuocere Per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto condividete, commentate e lasciate un bel pollice in su Potete trovare tutte le informazioni sui materiali che ho usato e su di me nel box qui sotto Ci vediamo al prossimo tutorial Ciao ciao!